ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su crash team racing nitro fluid e siamo qui esattamente più o meno nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta siamo sempre nel primo tracciato diciamo nel primo pezzo di mappa e dobbiamo andascene no questo è il boss allora questo è il cancello vabbiamo a mandarle qua oh vi abbiamo messo una sorta di radar ecco lì la prossima gara vedemo pista cloaca sempre in insane area insane beach oh attenzione c'è tuniglide di la dietor e questa la prendo come faccio ad esserse gol superato eh eh uh oh sole dai raga dovete un po' impegnarvi bene ho preso un sacco di vantaggio c'è c'ho dietro solo tini wow wow e così mia quanto margine che c'ho oh 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 qualcuno l'ha preso ultima gira ma quanto è lontano madò puliscio ma lisciato che no cavolo mi ha preso all'ultimo c'è una gara quasi perfetta ma non l'avevo visto perchè era sotto pensavo saltarsi però vabbè 10 10 trofeino ecco eccolo lì football tiny non 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 hai sbloccato un nuovo kart team bandicoot oh me lo cambio si oh lo dicevo io ho partito male però lo dicevo io che qua era la il circuito del boss no tanto ripperu fa sempre e solo le pozioni quindi posso andare sul tranquillo ok Vai così Dai io so primo Farisci Trofeo guadagnato Mi ricordavo io che c'era un modo per togliermi la bomba E infatti Vai l'ultima due curve E siamo al traguardo Olè Esperto schivatore Trofeo guadagnato Più matto di Reaper Ehm Ehm Congratulazioni, hai aperto una nuova area Qui troverai altre quattro piste Buona guida Hai bloccato un nuovo pilota, Ripper U Complimenti, hai bloccato un nuovo schema di colori, arancione Hai bloccato un nuovo adesivo, Ripper U Ottimo Ah ok, allora vediamo un po' Quali posso fare di piste? Non ce ne sono però Per correre su questa pista raccogli il numero prestabilito di reliquie Ok, dovrò, madonna Questa è un'area speciale, non so se riuscirò a farlo Perché la gemma in reliquie non è che mi piacciono tantissimo E questa è l'area che abbiamo sbloccato Eccoci Tempio Tiger, rovine perdute Pagmina Hai 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 vai intanto adesso ti supero sorellina oh ho attivato la bomba cavolo l'ho preso di sfriscio ho detto io che questa era una pista difficile questa è una sfida fra te e me cara sorella ultimo giro ma l'orza di una sorella voilà sul filo di lama trofeo guadagnato oh yeah accontentati del secondo posto bionda complimenti hai vinto un trofeo olè più frutti vumpa raccogli più andrai veloce col kart se ottieni e conservi 10 frutti vumpa andrai a tutto gas e i potenziamenti saranno ancora più forti complimenti hai bloccato set di ruote team trace ok molto bene ragazzi direi che per oggi possa essere tutto la prossima volta ripartiremo da qui io come sempre vi invito a lasciare un bel like a commentare condividere iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ciao belli ciao ciao ciao